T'hanno rotto il cazzo da qualcuno a Roma? Eh, t'hanno rotto il cazzo di qualcuno? Vabbè, ma non ho mai avuto una conversazione... G-B-B-B-B-B-B-B-O-L-A Oh, c'è Pacianka! Sì, ma non ho dovuto vedi che tal... Simone, entrano in l'entra. Eh, magari se mi spiegavi prima... Eh, se mi spiegavi prima... No, io sono a Prima Valle, conosco tutti, è normale, ti dico... Oh, tranquillo. E là sta a casa sua, nessuno di niente. Tu sei a Prima Valle, no? Prima Valle è considerata una zona pericolosa a Roma, no? Sì. Sì? Sì. È lui da ambiente. No, io... Ah, lui da ambiente? Allora, sì, allora, te lo spiego. No, vuoi a GreenBus, tu hai rotto il cazzo, perché io sono del cazzo, ho un marحم di cazzo di plastica, tu mi stai da brutti ai suoi problemi, da Milano, perché qui a Falco, sono tutti amici con quello, se sei il serpentone, tu vado alla discarica Capite, qualcuno te lo ha, se lo dava, se... Ma che sei a brutti? Oh, che stai faccio la tua green bar? Ho capito sulle green bar, ti giuro! Ma tu capisci lo capito? Se ti dico 100 euro, ti capisci? Eeeh, c'è un bel paraculo, 100 euro, 300 euro. Ah, se l'ammeli. Ma sei ambrutti, hai amici miei romani, e mica me sta bene. Tutto a Milano mi ha ambruttissi le cazzette miei. Ma no, non sta bruciando nessuno. No, per te c'è stata abbandonata la marana. Abbandonata la marana. Eh, e poi che ha potuto chiamare qui? Chi mi chiami? Se l'amico ti ha piavalle, è un'altra bella del culo, un'altra bella del culo. Non lo so io ti ha piavalle. Ah, tu sei. Io non ti ha piavalle. Ma sorgi, ma sorgi ce l'ha piavato. Ah, questo è bello mio. Ti sei ingassato. Ti hai metto il mio passo e fai la lavatrice sempre, no? I tuoi capelli, fai vedere? Staccalo, visto che fa il panomero. Sì, sì, mi ha detto che sono a lavatrice, che so... Come mi chiami? Ma poi vai a Milano, devi? Eh sì. E si cazzo, faccio subito, no? Mi chiami di dentro, amici miei romani. Specialmente i discari, perché io ho 64 anni. Ah, 64 anni? Questi sono i miei... I romani, gli romani, gli romani, gli romani ossi sono. No, voglio sapere... Dotti, andiamo! Mariuscio! Chi è? Magliere dei muscoli. Ti è, guarda le roba, sì. Allora, ti ho conto il calco, fai tu, ma lui, sì. Posso fare una domanda a Mariuccio? No, tu, scavido. Io ti stronco pure a cartate. No, no. Io ti stronco, ti piace a cartate, ti fa la Claudio Villa. Fa una domanda. Com'è una tecnica per conquistare una donna? Eh, mo che, grazie, che ti dico, grazie a te. Tornare là, c'è uno a me, io che tavola io. Effettivamente. Ma guarda te. Ma guarda questo. È la mia bellezza, è la tipo ricerchiera. La ricerchiera c'è la persona. Eh? 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 Che so? Ma so più bello io. Devi fare l'autografo tipo a me? L'autografo? Eh, andiamo a cantare di te. Ah, al fesso di tempo ti piego come il zucco. Io canto l'ossia romana. Mi vuole vicino ma mi ammazzano. Sì. No, no. Ti piego con il zucco che sono più forti di te, no? Tu che hai cantato? Hai vinto il fesso di tempo? Che hai cantato? Guarda la canzone tua. Eh, la noia. Tu donessi, noia. Non lo tengo, c'è. No, 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 no. Non è più la cosa amare. Guarda, col me sono morto e mi pare di desistere. Tu ne sei due. Che cazzo guardi? Ma non ho fatto nulla. Ragazzi, guarda bene. Ci potremmo prendere un caffè che sia via te, amico mio? Eh, sì. Non ho fatto nulla. Possiamo. Ora. Ma non c'hai desiderato in regia? Perché? Perché fai muotare? Tra poco. Poi fai entrare i clienti dentro le... Ma non lo so, ma è lui fa comunità. Sì. Utilizzate il segno con te? Belli mia. Belli mia. Belli mia. È chiaro, è brutta. Che male che roba. Belli mia. Sì. Ognuno ha le sue. Ognuno ha le sue. A Milano non c'è gente così? Sì, diciamo che... Sì. Ma te siete Milano, Milano? Sì, io proprio Milano, Milano. Dove? Milano San Siro. Quanti anni c'hai? 23. Di che segno sei? Ariete. Sei fidanzato? Sì. Domanda al nostro! Ma te canti? Non lo so. Canti te? Sì. Ok. Recidi? Sì. Sì? Sei gay? Sì? Ah, come cazzo? Io non mi ricordo più. Io sono gay. Sì. 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 Eh, ma perché tu li hai, non li hai persi. Cioè li sto perdendo. Vabbè, vabbè. Io passo a farci uscire le gambe e sto bene. Sì. Michael Douglas, la mettiamo. La ragazza è maraviglia. Ci mettiamo il caffè insieme? Dai. Un caffè? Sì. Eh, ma io non bevo il caffè. Ma te per caso. Eh, non fai nulla. Allora i soldi che hai preso, ti ti mani allora? Il? Magliate i soldi. Perché se ne mori, la piene del culo. Ma hanno mangiato. Magliati. I soldi? I soldi. Non sgagnare le mancolate. No, no. Di spendere, spendere. Ah, sì, ma poi di spendere. Allora, se faccio, vengo a Milano. Le porti e le metto a Piersidio Brosconi. A McDonald? Andi a prendere. A Piersidio Brosconi. Io sì. Ma se paghi tu va bene. Io? Io sono una rica. Io ma sto con la vetta e guadagno poco, capito? Eh, ma io sono... È un cazzo. Che è? No, ma lui è il proprietario del bar. Lui ha tanti soldi. Sì. I soldi non mi dai. Come mi chiami a me? Costanzo? No. No, come ti ho chiamato? No, Costanzo. E mi chiamo David. E che è Costanzo? Ah, David, ti scusami. Ma che te cazzo vuoi un caffè? Dai, prego il cervello. Dai, giù. A me io non bevo caffè. Mario. Aglio. Legia. Legia. Te ne sei scappato. Ma che sei fatto? Namo. Fa tutto lui. Ciao. 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 Ciao.